La tua anima sta magnificando il Signore se non ci svegliamo ricolmi di gratitudine e di gioia ma la gioia vera, non la gioia effimera per qualche cosa che abbiamo ottenuto perché la nostra squadra avventò la Coppa dei Campioni o perché abbiamo passato un esame, eccetera no, 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 nemmeno la gioia perché pensavamo di avere una brutta malattia e invece poi le analisi e gli accertamenti ci hanno detto che no, che siamo sani no, no, non quella gioia una gioia diversa, una gioia profonda una gioia soprannaturale una gioia che non è di questo mondo perché attraversa gli eventi di questo mondo anche le sofferenze rimanendo intatta se tu non ti svegli con questa gioia dentro e non vai a letto dopo aver passato una giornata difficile di precarietà, problemi, di incomprensioni, eccetera con questa gioia dentro allora vuol dire che ancora non ti conosci e se non ti conosci allora non conosci ancora veramente l'amore che Dio ha per te Maria ha potuto magnificare il Signore perché ha incontrato nella sua realtà lo sguardo di Dio l'anima mia magnifica il Signore il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché? perché ha guardato l'umiliazione dalla piccolezza l'insignificanza umana della sua serva tu hai fatto questa esperienza perché se non hai intercettato lo sguardo pieno di misericordia di Dio laddove tu sei lo sguardo pieno di amore per te così come sei se non hai incontrato lo sguardo del Padre che non ha abbandonato mai il figlio prodigo anche quando ha tagliato con lui è uscito di casa si è allontanato ha buttato la sua vita alle ortiche e nei peccati e proprio quello sguardo cioè la shekinah di Dio la presenza di Dio il calore la forza soprannaturale di quello sguardo di amore e di misericordia del Padre ha permesso al figlio prodigo di rientrare in se stesso e convertirsi quello sguardo lo ha risuscitato dai propri peccati e lo ha fatto tornare a casa se tu non hai fatto questa esperienza dello sguardo di Dio il tuo cuore non può magnificare il Signore per il suo amore infinito perché l'amore è proprio questo l'incontro pieno di stupore con lo sguardo pieno di tenerezza e di misericordia del Signore su di noi perché quello sguardo illumina tutta la nostra vita illumina tutti gli eventi della nostra vita anche quelli dolorosi, difficili nei quali il Signore ci ha rovesciato dai troni sui quali c'eravamo illusi di poterci sedere come re della nostra vita illumina con l'amore tutte le volte che noi che pensavamo di essere ricchi della nostra intelligenza dei nostri schemi dei nostri criteri siamo tornati poverissimi a mani vuote senza avere una risposta senza sapere che cosa stava accadendo nella nostra vita tutte le volte che facendo piccola la sua grandezza ha deposto il suo sguardo sulla nostra realtà lì dove eravamo caduti dove ci eravamo perduti e ci ha abbracciati dicendoci coraggio io sono tuo padre tu sei mio figlio io oggi ti ricreo a mia immagine e somiglianza allora coraggio perché oggi come ogni giorno e come nel Natale che stiamo per celebrare potremo sperimentare questo sguardo pieno di misericordia di Dio sulla nostra piccolezza capace di rendere la nostra vita un prodigio grazie a tutti